Sono Sara Pagliaroglio, 19 anni e vivo a Villa di Serio, un paese in provincia di Bergamo. Ho quest'anno conseguito il diploma come perito aziendale corrispondente in lingua estere. Nel mio anno da Miss mi piacerebbe poter avere l'opportunità di scattare con numerosi fotografi, diversi servizi fotografici. Rispetto alle altre credo di essere molto fotogenica. Dovendo scegliere tra chi buttare giù da una torre, sceglierei Patrizia perché è stata Simona a attaccarmi la coccata. Dovrei essere io Miss Italia perché amo le sfide e penso di poter rappresentare la bellezza italiana.